Fa sul serio l'indiano Tuff Kaint, il possibile nuovo partner industriale della ITR, l'amministratore delegato di un colosso inglese ha infatti sottoscritto una lettera di intenti con il patron Antonio Bianchi. Ha fatto tappa in Molise l'ex ministro Fabrizio Barca, ospite del sindaco di Riccia Fanelli, il politico del capoluogo ha lanciato la sfida per un cambiamento generazionale del Partito Democratico. Secondo quanto annunciato dall'assessore all'istruzione Michele Petraroi alle proposte circa il piano di dimensionamento scolastico arriveranno in consiglio regionale per l'adozione. Si chiama Scuola di due ruote il progetto promosso dal comitato regionale della federazione motociclisti italiani volto a sensibilizzare i più giovani alla cultura della sicurezza. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, come avete sentito dai titoli, è Tuff Kaint, il nuovo partner industriale della ITR. L'indiano amministratore delegato di un colosso inglese ha infatti sottoscritto una lettera di intenti con il patron Antonio Bianchi. Le garanzie proposte da Kaint fanno pensare che lo stesso voglia fare sul serio. Sentiamo. Ancora nessuna conferma dall'azienda tessile di Pettoranello ma potrebbe essere Tuff Kaint il nuovo socio del patron dell'ITR Antonio Bianchi. Il partner di cui si è parlato l'altro giorno durante il tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico, riunitosi nella capitale per tentare quanto meno di garantire un futuro alla fabbrica della moda molisana. In realtà l'imprenditore indiano già nel 2009 aveva manifestato interesse per l'azienda di Pettoranello quando aveva proposto di acquistare l'intero compendio Hiti Holding, che all'epoca era in amministrazione controllata. Kaint è amministratore delegato di una società inglese fondata nel 1890 che opera nel settore d'abbigliamento producendo un utile lordo di circa 50 milioni di euro. In realtà la grande società si occupa anche di energia verde, telecomunicazioni, computer e metalli. Il rappresentante del grande colosso lo scorso 16 novembre ha sottoscritto con il patron Bianchi una lettera di intenti e così se il giudice dovesse ora dare l'ok al concordato si potrebbe puntare a quattro licenze da integrare con la produzione del colosso internazionale che stimerebbe circa un milione di capi a stagione con la prospettiva ad implementare il livello occupazionale dell'indotto. Al momento sembrerebbe che l'imprenditore venuto dall'Oriente infatti voglia fare sul serio, dato che nella lettera di intenti lo stesso si è impegnato a consegnare referenze bancarie indicativamente identificate in 5 milioni di euro e una serie di garanzie tramite una società di Hong Kong per ottenere un ulteriore credito di circa 10 milioni di euro. L'ex assessore Filoteo Di Sandro è stato nominato coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il responsabile nazionale dell'organizzazione del partito Fabio Rampelli è infatti affidato formalmente la guida di Fratelli d'Italia Molise a Di Sandro avviando così anche nella regione la fase costituente. L'obiettivo sarà ora quello di costituire un partito radicato e partecipato fondato sul confronto degli iscritti e sulla scelta democratica degli organismi tramite congressi. Tornare a Militare ha commentato Di Sandro in un partito fondato sulla partecipazione democratica degli iscritti e sul radicamento territoriale è quello che mi aspettavo quando decisi di lasciare il PDL. Adesso, a poi concluso, dobbiamo ripartire da destra, ovvero da quei valori che si erano assopiti nel PDL dopo la scomparsa di alleanza nazionale. Ha fatto tappa in Molise l'ex ministro Fabrizio Barca, ospite del sindaco di Riccia, Micaela Fanelli. Il politico torinese dal capoluogo ha lanciato la sfida per il cambiamento generazionale del partito democratico. Sentiamo. Ha delineato la sua idea di partito che deve essere separato dal governo e che deve necessariamente riattrarre i giovani. L'ex ministro Fabrizio Barca, che non nasconde di aver votato per Pippo Civati, è però arrivato nel capoluogo ospite della Renziana, Micaela Fanelli, con la quale condivide l'idea di un rinnovamento drastico del PD. Un cambiamento per forza di cose collettivo che porti alla nascita di un partito aperto al confronto. Insomma, un partito che possa in qualche modo anche guardare al passato senza aver paura di trovare nuova linfa vitale dalle giovani generazioni. Se all'inizio il non cambiamento di un paese è legato alla scelta delle sue classi dirigenti che sono ancora molto capaci, nel 79, nell'85, 86, 87 erano ancora molto capaci le classi dirigenti del paese, prima della disintegrazione dei partiti. Con tutti i limiti che avevano i partiti, con tutta la corruzione che già c'era nel partito, erano ancora capaci. Diciamo le serie, come dire, la serie B, la serie C, la serie D di quei partiti è venuta fuori dopo, erano ancora capaci. Dopo 30 anni in cui tu per scelta non cambi, cominci a non essere più in grado di cambiare, perché ti sei circondato di persone modeste, perché essendo sempre un po' più modesto, prendi sempre persone più modeste attorno a te, perché non reggi dei gruppi forti attorno li soffri. E' importante in questo momento per Barca non è solo l'elezione del vertice nazionale del partito, bensì ciò che accadrà dopo, perché, come lo stesso ha ribadito, per riuscire a governare bene il paese bisogna avere un partito che macini idee. A convincere poi l'ex ministro a votare per Civati l'idea che a sfidare Renzi, che punta tutto sull'innovazione, fosse un candidato come Civati che propone comunque il cambiamento. Ma la visita di Barca non ha però fatto cambiare idee al primo cittadino di Riccia, ferma sulla convinzione che sia proprio Renzi l'interprete giusto del cambiamento di cui ha bisogno ora il Partito Democratico. Il capogruppo del Partito Democratico, Francesco Totaro, plaude alla decisione del senatore Roberto Ruta di aver dato ascolto alle preoccupazioni dei cittadini del Basso Molise, decidendo di soprassedere sul progetto Gran Manze della Granarolo. Una decisione che assume particolarmente valore, ha detto Totaro, visto che giunge dal primo proponente il senatore Ruta, il quale dopo aver recepito le preoccupazioni della popolazione e le decisioni dei vari consigli comunali dei centri Basso Molisani, ha pubblicamente dimostrato come la buona politica sa ascoltare l'opinione della gente. Sulla scia del giusto comportamento assunto dal senatore Roberto Ruta auspico, ha poi concluso l'esponente del PD che tutti gli organi competenti possano agire di conseguenza per sostenere sempre più la volontà di preservare e promuovere il territorio molisano. Ci occupiamo ora di scuole, precisamente di dimensionamento scolastico. Il piano, secondo quanto comunicato dall'assessore Michele Petraroia in una nota, sarà nei prossimi giorni al vaglio della regione. Vediamo. Nei prossimi giorni le proposte sul piano di dimensionamento scolastico predisposte dai sindaci approvate dalle province di Sernia e Campobasso in apposite conferenze di servizio arriveranno in consiglio regionale per l'adozione. Nel capoluogo molisano la proposta di dimensionamento portata dal PD in consiglio comunale e messa ai voti con l'astensione della maggioranza ha scatenato perfino l'ira del sindaco Di Bartolomeo che ha rassegnato le dimissioni per poi ritirarle la sera del giorno dopo. Secondo le vigenti normative la potestà decisionale risiede nella conferenza dei sindaci convocata dalle province, salvo scostamenti significativi con gli indirizzi indicati nella delibera della giunta regionale. Il lavoro istruttorio di questi giorni ha reso noto l'assessore all'istruzione Michele Petraroia dovrà limitarsi a rispettare le scelte già adottate a livello provinciale ad eccezione di quei casi che contrastano con i criteri e le linee guida regionali. Ciò che conta è che il Molise si doti di un piano regionale di dimensionamento entro i termini di legge per consentire al Ministero dell'Istruzione di programmare in tempo utile le attività didattiche per l'anno scolastico 2014-2015 con tutti gli adempimenti di preiscrizione, strutture di segreteria e di individuazione delle classi e dei docenti. Occorre un salto culturale generale, ha aggiunto Petraroia, da parte di tutti gli attori del mondo della scuola, degli amministratori locali e dei sindacati di settore perché passi un disegno regolatore che aiuti a costruire la scuola del futuro con la messa in sicurezza degli edifici, l'anagrafe degli studenti, le classi 2.0 e l'aggiornamento sistemico dei docenti e del personale. Non serve a nessuno una scuola poi concluso in cui su 82 autonomie 41 sono sottodimensionate e date in regenza come è accaduto in questi anni con dirigenti impegnati su decine di istituti e di comuni che non riescono oggettivamente ad impostare una pianificazione didattica di qualità per carenza di tempo e di risorse. Il consigliere regionale di Progetto Molise, Nicola Eugenio Romagnolo, ha presentato un'interrogazione rivolta al presidente della Giunta Paolo Frattura per sapere quando sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise il bando per la formazione di 30 operatori di strategie di internazionalizzazione per la successiva erogazione di servizi alle imprese molisane. L'esponente di opposizione evidenziato come già lo scorso maggio la Giunta abbia adottato il finanziamento e che attraverso la concretizzazione di tale iniziativa si favorirebbe la formazione di personale qualificato anche tramite la realizzazione di tirocini e l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani laureati. La via Francigena del Sud, che conduce da Roma a Brindisi, costruita nel 1994, ha tracciato il suo percorso anche in Molise. A Palazzo San Francesco a Esernia è stata celebrata la bellezza dei luoghi che attraversa sentiamo Livia Garofalo. A Palazzo San Francesco a Esernia è stata presentata la via Francigena del Sud, un percorso di 700 chilometri che conduce da Roma a Brindisi, dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione degli antichi percorsi, tra antichi tratturi, templi pagani, santuari cristiani, panorami collinari e passaggi montani. Un pellegrinaggio dove si sviluppa l'arte, cultura, turismo, enogastronomia e tratturi. Lo scopo di questo incontro è ampliare le assi che sostanzialmente già sono stati creati affinché anche politicamente la via Francigena prendesse la giusta considerazione. Anche il Molise ha il suo tracciato. Il 14 dicembre 2012 a Scapoli venne inaugurato il passaggio della via Francigena e ben 89 sono i comuni molisani coinvolti, un itinerario che prende il via da Scapoli a Sepino attraversando monti, valli, colline sino a San Martino e in Pensilis, passando per Pretrella, Tifernina, Matrice e Montagano. Adesso sostanzialmente stiamo mettendo in opera la progettazione per la messa in sicurezza affinché prestissimo si possa percorrere tutto il tratto che sostanzialmente vada a Sepino sino al comune di Scapoli passando per altri comuni perché la via Francigena bisogna considerarla non come una sola strada ma come un reticolo di strade. Quindi sostanzialmente stasera iniziamo un ulteriore step oltre quello della settimana scorsa che abbiamo avuto a Guardiareggia quindi con la costituzione dell'asse Matesino affinché il comune Capofila che è il comune di Sernia faccia rilievi anche di natura strutturale per poter mettere in sicurezza il tracciato. È stata riaperta ieri la pista di pattinaggio sul ghiaccio situata presso l'area ex stadio Romagnoli a Campobasso. Tra risate, divertimento e anche qualche caduta sono tante le famiglie che si sono recate a pattinare trascorrendo una domenica diversa. L'impianto resterà aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 10 alle 24. La pista di patinaggio su ghiaccio è realizzata in collaborazione con il pastificio La Molisana e Molise TV. Si chiama Scuola di Due Ruote il progetto promosso dal Comitato regionale della Federazione Motociclisti Italiani volto a sensibilizzare i più giovani alla cultura della sicurezza. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Si chiama Scuola di Due Ruote il progetto promosso dal Comitato regionale della Federazione Italiana Motociclisti presso il centro commerciale Monforte di Campobasso dove in compagnia degli istruttori le giovani generazioni hanno avuto la possibilità di provare le due ruote acquisendo nozioni fondamentali di guida. Un vero e proprio corso per piccoli motociclisti tra i 7 e i 15 anni che ha dato allo stesso tempo ai ragazzi tra i 13 e i 15 anni la possibilità di cimentarsi in una prova pratica di guida del ciclomotore tenendo a mente una regola fondamentale ovvero la pista è fatta per correre e la strada no. Un'iniziativa dunque volta a sensibilizzare i più giovani alla cultura della sicurezza. Sicurezza ed educazione stradale è uno del Dipartimento di Educazione Stradale è un settore della Federazione Motociclistica Italiana che si occupa quindi di dare le nozioni necessarie ai ragazzi sia il primo approccio ma anche una conoscenza un pochettino più approfondita per quanto riguarda la guida in sicurezza del ciclomotore. Ecco voi siete attivi anche molto nelle scuole come stanno rispondendo i ragazzi? Allora quest'anno formeremo come settore di educazione stradale oltre 400 alunni hanno aderito 4 scuole della regione e nella giornata di ieri c'è stata la prima prova pratica con la scuola media Colozza di Campobasso ed abbiamo fatto la prova di guida sicura per 35 alunni. Questa pratica si conseguirà anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi con lezioni teoriche, quindi dando le nozioni di base e poi con la prova pratica quindi andando a formare nel caso specifico della Colozza oltre 170 alunni. Attività rivolta ai bambini ma in questo caso come si pongono i genitori? In qualche modo vedono un'attività pericolosa, hanno un po' di timore oppure no? Chiaramente i genitori siamo tutti timorosi, sono anch'io papà, mio bimbo 16 mesi ma già approccia, cioè voglio dire la mentalità, la passione già c'è. Il genitore sicuramente ha paura, però in questa occasione dove siamo noi istruttori a fare loro questa scuola, diciamo ad avviarli certamente si tranquillizzano, firmano una malleva perché chiaramente è una responsabilità dettata da loro, quindi insieme a loro questo progetto quindi il genitore è sicuro perché ci siamo noi ad avviarli magari poi più sicuro se continueranno il loro cammino in sicurezza. Un momento importante durante il quale i formatori di educazione stradale FMI hanno diffuso nei tanti ragazzi che hanno aderito alla manifestazione il messaggio in base al quale le norme vigenti hanno lo scopo di disciplinare la circolazione stradale considerando anche che il bene individuale non è in contrapposizione con quello collettivo. Tante le iniziative portate avanti dalla Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore di Campobasso. In occasione della festa dell'albero le sezioni A e B si sono cimentate nella piantumazione della siepe di Alloro che circonderà pian piano il giardino della scuola. Un modo per sensibilizzare anche i più piccoli al rispetto della natura ogni bambino infatti ha piantato la sua piantina e nel corso dell'anno scolastico ne seguirà la crescita. L'associazione italiana Emergency che opera in Italia dal 2005 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre. Isernia l'associazione ha allestito un gazebo per informare la cittadinanza sulle attività svolte. Sentiamo. Emergency è un'associazione umanitaria italiana fondata nel 1994 a Milano. Offre cure mediche e chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime della guerra e nel tempo l'associazione ha esteso il raggio delle sue attività dedicandosi alla cura delle persone povere in paesi in cui non esistono strutture sanitarie gratuite. È presente in ogni parte del mondo e dal 2005 opera anche in Italia per garantire a tutti il rispetto del diritto a essere curati sancito anche dalla Costituzione italiana. Anche a Isernia, in piazza Celestino V, l'associazione Emergency ha allestito un banchetto per sensibilizzare la cittadinanza e per dare un contributo. Emergency festeggerà nel 2014 i suoi 20 anni di attività e attività purtroppo legate a situazioni molto tristi perché sono legate a situazioni di guerra. Infatti, come molte persone sanno, noi siamo presenti in Afghanistan, in Africa per curare le vittime delle guerre. Ultimamente però, ahimè, siamo presenti anche in Italia con il poliambulatorio di Palermo e di Marghera per prestare sanità, per offrire sanità ai migranti e non solo perché da qualche anno il 20% di chi si avvicina ai nostri poliambulatori sono, ahimè, italiani. Grazie al coordinamento e all'attività dei volontari sul territorio, l'associazione promuove attivamente i valori di pace, solidarietà e rispetto ai diritti umani. I principi fondamentali sono la gratuità perché la salute è un diritto che deve essere assicurato a tutti e deve essere gratuita. La neutralità nei posti di guerra emerge in sicura chiunque si presenti ai cancelli dei propri ospedali e soprattutto l'altissima professionalità. Manovre semplici e sicure, seguite anche da persone che non hanno una preparazione sanitaria specifica possono salvare la vita. Un messaggio importante che è stato lanciato a Campobasso da numerose associazioni del capoluogo. Sentiamo. Realizzare un'ampia gamma di eventi volti ad informare le diverse fasce della popolazione molisana circa la rilevanza dell'arresto cardiaco e l'importanza di conoscere e sapere eseguire le manovre che possono salvare la vita. Questo è l'obiettivo del Centro di Formazione Formolise che in collaborazione con Molise Emergenza, Croce Azzurra, Croce Verde, Cive Sollus, SAE 112, Onlus Sanai, Nucleo Cinofilo di Pesco Pennataro e l'organizzazione di volontariato il cuore hanno promosso in piazza Municipio a Campobasso. Leonardo De Padova, oggi numerose associazioni qui in piazza per diffondere un messaggio importante alla popolazione, quale? Sì, per fortuna siamo riusciti a riunire anche tutte le associazioni volontariate di Campobasso per diffondere comunque il messaggio e sensibilizzare anche la popolazione di Campobasso sulla defibrillazione precoce o perlomeno sulle manovre di rianemazione cardiopolmonare che possono comunque aiutare il sistema del servizio 118 sui tempi di arrivo e salvarne vita. Il messaggio è stato abbastanza recepito anche su Campobasso, in Molise in generale. C'è stata una buona risposta anche sui corsi di formazione per cui direi che il messaggio è passato anche nella popolazione e bisognerebbe implementare questo messaggio facendolo passare in modo capillare perché solo in questo modo veramente riusciamo a garantire di riuscire a salvare una vita. Dunque manovre semplici, sicure che chiunque anche senza una preparazione sanitaria specifica è in grado di attuare ma che è importante conoscere per poter salvare una vita. Bene, con questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Vi lascio ora le previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Il meteo è offerto da Previsioni del tempo per lunedì 25 novembre. Sul Molise prosegue l'azione di una fredda circolazione di bassa pressione che rinnova frequente variabilità con nubi più compatte e possibili fenomeni nevosi venti in rinforzo con mari tendenti a mossi o molto mossi temperature in ulteriore calo con clima freddo andiamole a vedere nel dettaglio Campobasso minima a meno 2, massima a 4 gradi Iserne a minima 2, massima a 8 gradi Termoli minima 7, massima a 12 gradi Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero Grazie a tutti Grazie a tutti